ci troviamo davanti alla sede dell'unione dei comuni pian del bruscolo dove questa mattina è stato presentato il nuovo portale turistico della città di valle foglia visite valle foglia punto it sintomo di novità di freschezza di modernità un portale turistico già online dove tutti i cittadini del territorio ma non solo turisti quindi italiani stranieri perché il tradotto in diverse lingue potranno usufruire del nuovo portale turistico messo a disposizione dall'amministrazione comunale per visitare scoprire quello che è il nuovo territorio andiamo a sentire quali sono state le parole dei protagonisti in questa conferenza stampa sien da cucchielli questa mattina si presenta il portale turistico visite valle foglia punto it in che cosa consiste ma consiste innanzitutto in dare un logo e un portale che racconta la storia le bellezze diciamo ambientali e paesaggistiche e diciamo i beni culturali tutto quello che c'è in un territorio come la città di valle foglia e pensiamo che possa diventare l'ambiente il turismo e la storia i beni culturali il patrimonio naturalistico un pezzo del sistema economico e produttivo e che crea lavoro occupazione crescita e benessere questo era un territorio tutto agricolo prima che si mettessero insieme questi due comuni e sant'angelo col bordolo in valle foglia e poi diventate il territorio dei mobilieri e poi il territorio della lavorazione del vetro della metallo meccanica della refrigerazione oggi attraverso questo portale pensiamo che debba diventare anche un territorio turistico che è imperso del sistema economico e produttivo puntando come vedete il manifesto alle mie spalle nella festa del primo maggio a realizzare la costituzione che mette al centro il tema del lavoro del benessere della crescita della piena occupazione soprattutto in un periodo come questo dove il settore quello turistico è quello che ha sofferto maggiormente ma abbiamo sofferto tutti certamente il turismo è quello che ha sofferto di più pensiamo che si possa riprendere naturalmente come abbiamo detto tutti i giorni quotidianamente rispettando le regole evitando assembramenti mantenendo le mascherine igienizzazione le cose che sappiamo sperando che con una vaccinazione a tappeto si possa ritornare già dall'estate in una situazione di normalità ecco questo è un obiettivo e una novità perché non c'era un portale turistico con un logo turistico che ci distingue da altri territori anche delle marche della nostra provincia e pensiamo che questa sia una cosa buona per far conoscere le bellezze della città di Vallefoglia siamo con il vice sindaco di Vallefoglia Barbara Torcolazzi oggi si presenta un nuovo portale turistico visite Vallefoglia un nuovo strumento per far conoscere sempre di più la città si per noi è una giornata importantissima perché abbiamo fortemente voluto questo portale perché è uno strumento indispensabile appunto per far conoscere il territorio l'idea nasce proprio dall'esigenza di far conoscere Vallefoglia sotto altri profili che non sia quello strettamente legato all'industria alle nostre aree industriali come è stato negli ultimi decenni Vallefoglia è una città giovane nata appunto dalla fusione nel 2014 tra gli ex comuni di Colbordolo e di Sant'Angelo in Lizzola e quindi necessitava di essere conosciuta conosciuta anche dalla stessa cittadinanza ovviamente perché essendo una città nuova ci sono delle peculiarità culturali e storiche che anche gli stessi cittadini non conoscono l'obiettivo appunto è quello di puntare sulla promozione turistica del territorio offrendo diciamo opportunità lavorative e economiche riguardanti altri settori che possono essere quelle dei prodotti locali ma prevalentemente quello del turismo vogliamo che i turisti che si approcciano a Pesaro Urbino nel loro tragitto poi si fermino a Vallefoglia e il portale dà tutti gli strumenti tutti gli spunti interessanti soprattutto da un punto di vista storico culturale perché la gente si fermi e quindi visiti Vallefoglia quindi acquisti e utilizzi le offerte ricettive del territorio un logo fresco un sito moderno lei che anche assessora all'istruzione ha detto anche per i cittadini di Vallefoglia quindi parliamo anche magari di ragazzi che vogliono un po' esplorare il territorio assolutamente l'obiettivo è partire proprio dalle scuole per far conoscere anche quei personaggi illustri celebri che hanno reso tale Vallefoglia e che ai più sono sconosciuti e poi sicuramente il mi parlava di freschezza anche del logo del sito merito e anche di chi ci ha lavorato in particolare la nostra consigliera Linda Giovannelli e poi l'esperta museale storica ricercatrice la dottoressa Mindoli e chi appunto ha lavorato al portale la dottoressa Lazzare quindi tre donne giovani con tanto entusiasmo e questi sono i frutti del loro lavoro Il sito è strutturato per essere facilmente navigabile per trovare tutte le informazioni nel più breve tempo possibile nell'essere immersivo anche nell'abbinamento con delle grandi immagini e una selezione di immagini che potessero rappresentare al meglio quello che è poi il territorio e quelli che sono i testi di Alessandra Mindoli è facilmente appunto utilizzabile da abbiamo pensato per tutte le fasce di età e comunque da dispositivi sia desktop che mobile Presenta quindi una struttura moderna diciamo siamo allo 2021 è stato pensato appunto per questo? Sì certo abbiamo cercato di dargli una veste totalmente moderna e fresca e giovane come tutto un po' il progetto il logo e la scrittura dei testi Se ci spieghi un po' magari nel dettaglio quali interfacce ci sono quindi magari non so attività di ristorazione, musei Allora sul sito si troverà un menu dove si può navigare in tutte le categorie, nelle sottocategorie è possibile tradurre il sito in diverse lingue e quindi dare la possibilità anche ai turisti di poter tradurre velocemente i testi Nella home page troviamo un riassunto di tutte le varie categorie e poi c'è una parte del blog dove ci sono degli approfondimenti su tutti i personaggi illustri, su tutti i paesi, i nostri borghi e tutte le caratteristiche più diciamo curiose e importanti anche del territorio Qual è stato il tuo ruolo nella creazione del nuovo portale turistico Visit Vallefoglia? Il mio lavoro è stato più che altro un lavoro di coordinamento della struttura e dell'architettura per poi dopo lasciare spazio a tutto il lavoro di ricerca, di approfondimenti storici svolto da Alessandra Mindoli e poi la realizzazione concreta del portale a cura di Elena Lazzarini Il vice sindaco si è parlato di un portale anche dedicato ai giovani per questo hanno scelto una ragazza giovane Sì sicuramente anche per dare un po' un aspetto giovane, fresco e vitale a questa vallata che comunque sia è un territorio molto antico con tantissima storia e tantissima importanza però ovviamente è importante anche guardarlo con un punto di vista giovane e fresco e anche leggero Alessandra qual è stato un po' il tuo ruolo nella creazione del portale ci ha parlato di creazione di testi come è strutturato un po'? Per quanto riguarda la creazione dei testi l'ho desunta da fonti non solo bibliografiche ma anche archivistiche ho fatto un lavoro capillare di archivio anche sopra luoghi in posti che non avevo mai visto quindi ho potuto toccare con mano, ho potuto verificare, datare anche e ricostruire proprio la storia del luogo e poi per quanto riguarda la parte dello sviluppo della mia scrittura è stata motivata anche da una passione, avevo già collaborato per il comune di Vallefoglia con l'archivio storico di Sant'Angelo e Lizzola e quindi c'è stato anche un tantam di collaborazioni da parte delle varie biblioteche perché nel periodo di pandemia mi hanno scansionato documenti che sono stati molto utili la struttura è suddivisa in aree macro aree, ci sono i castelli sospesi tra Sogno e Moria tipo col Delce e Sara di Genga che non esistono più e poi ci sono i borghi, cioè i castelli veri e propri, quindi col Bordolo, Sant'Angelo e Lizzola, Talacchio, Montefabbri innanzitutto e poi c'è l'area urbana, c'è l'area industrializzata dove però si trovano insomma delle ville, delle casi rurali, dei mulini quindi delle cose molto interessanti, c'è l'aspetto enogastronomico, dei sapori e le eccellenze enogastronomiche i personaggi illustri che ne sono sette e che hanno vissuto comunque che sono nati in questo territorio c'è un'altra area dedicata ai percorsi, agli itinerari e che stiamo cercando di riscoprire quelli insomma più che venivano battuti sin dall'epoca dei romani quindi per poterli ripristinare e renderli fruibili anche per la popolazione attraverso le mappe catastali antiche. Grazie Grazie a tutti